Presidente, facciamo così, io penso di avere tempo anche come relatrice di minoranza, adesso tutto quello che mi avete, sì come no, come no per regolamento, come no, se neanche tutto quello che mi avete addebitato anche quando parlavo su questioni generali, adesso lo rimettete come relatore di minoranza e adesso parlo anche con... Fate voi, io ho il tempo, ho anche difficoltà a parlare, Presidente, adesso però, francamente, lei, questo è esattamente quello, Presidente, che con calma avevamo tentato ieri di chiedergli per sapere le conseguenze che ci sarebbero state su quell'altro voto che poi è diventato palese, per questo io oggi mi sono alzata per chiederle cosa accadeva di questo emendamento. C'è una votazione aperta, dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Il successivo è precluso dalla reiezione dell'1.0.29.